Signori è un piacere essere qui con voi con Bologna Jazz Festival e ERA e TIPER Buongiorno! Benvenuti sul 38! Bologna Jazz Festival insieme a ERA e insieme a TIPER ci ha chiesto di farvi delle domande a premio sulla raccolta differenziata Il cartone della pizza dove va buttato? Nome? Maria! Se pulito nella carta, se sporco nell'organico Non tutta la plastica è riciclabile Che cosa puoi buttare nel contenitore adibito a raccolta differenziata? Tutto! Io ci metto tutto! Solo ciò che è imballaggio? Ah ho capito! Cosa sono i RAE? Stai scendendo solo perché non sai la risposta Aspetta, è l'isola, è il luogo o sono gli oggetti da smaltire? Ok, non mi sono distinto Sono i grandi e piccoli elettrodomestici Se vedete per strada dei rifiuti abbandonati Come vi comportate? Come vi comportate? Ci rimango male! Li fotografo con l'app Il rifiutologo Chiamo il numero verde 800 999 500 Se un uomo avesse un divano Un divano da buttare Cosa potrà fare quell'uomo? Telefonare all'isola ecologica Oppure? Oppure? Questa non lo sapete Posso contattare una onlus del progetto Cambia al finale Cosa può aiutarti quando non sai dove buttare un rifiuto? Telefonare all'era Telefonare all'era E' l'app Il rifiutologo Che puoi scaricare sul tuo telefonino barra tablet Grazie 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 Buona giornata